Oggi parliamo di cosa non mi piace delle crociere Benvenuti su Crociere Fai da Te, se volete viaggiare risparmiando siete sul canale giusto Vi consiglio di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di cliccare anche sulla campanella per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana dal mondo delle crociere Qua sotto in descrizione trovate anche il link al nostro canale telegram Crociere Fai da Te e al nostro sito web www.crocierefaidate.it dove andiamo a pubblicare offerte e novità dal mondo delle crociere In questo video vediamo che cosa non piace delle crociere Ho cercato di riunire una serie di cose che non piacciono a noi ma che abbiamo sentito spesso vengono discusse come punti critici delle crociere Mi piacerebbe sapere con un commento qua sotto anche da voi quali sono gli aspetti che non vi piacciono delle crociere e se tra gli aspetti elencati in questo video anche a voi alcuni non piacciono e vorreste cambiarli nel mondo delle navi da crociera Ma partiamo subito col video Il primo punto delle cose che non mi piacciono in crociera sono le piscine Infatti a bordo delle navi da crociera le piscine sono spesso piccole e affollate Ovviamente sulla navi da crociera sale tantissima gente Ha maggior ragione se andiamo nei periodi clou come i mesi di luglio e agosto E le piscine sono troppo piccole per il numero di persone che sono a bordo Purtroppo non ci sono delle limitazioni e su quasi nessuna nave vengono effettuati dei controlli Quindi le piscine che sono già piccole e basse diventano più delle tinozze Piene di gente e di bambini che saltano all'interno tuffandosi Personalmente non utilizzo quindi quasi mai le piscine E anche gli idromassaggi che sono veramente belli non vengono gestiti secondo me nel modo corretto Chi entra dentro l'idromassaggio tenderà a starci per molto tempo E anche qui non ci sono limitazioni Nel senso che spesso li vediamo veramente strapieni Uno attaccato all'altro e diventa quindi poco piacevole andarli a utilizzare A noi è capitato di utilizzare principalmente le piscine quando siamo fermi in porto e stiamo a bordo della nave Momento in cui ovviamente le piscine sono vuote perché la maggior parte di gente scende a terra E quindi è possibile utilizzarle con più tranquillità Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate a voi delle piscine a bordo della nave E se le utilizzate abitualmente Il secondo punto delle cose che non mi piacciono in crociera è che al buffet non si trova mai il tavolo Infatti quando andiamo a mangiare al buffet ovviamente andiamo nelle ore centrali in cui vanno a mangiare tutti Sarebbe più furbo probabilmente andare a mangiare molto molto presto appena apre O un po' più tardi quasi vicino alla chiusura In modo tale da avere la facilità di trovare il tavolo Ma se andate nelle ore centrali in cui ovviamente va tutta la nave Sarà molto difficile riuscire a trovare un tavolo libero E quindi magari dopo aver fatto il giro e aver preso i vostri piatti Dovrete girare parecchio per tutto il buffet per trovare un tavolo Questa a mio avviso è solo disorganizzazione da parte della compagnia Abbiamo viaggiato con diverse compagnie di crociera E abbiamo notato come alcune compagnie vi fanno fare la coda fuori dal buffet Nel momento in cui vi fanno entrare vi accompagnano a un tavolo Quindi vi potete già sedere e poi andate a fare il vostro giro per prendere il mangiare Avendo però già un tavolo prestabilito e destinato a voi In questo modo trovo che sia molto molto più ordinato Si evita che la gente giri per tutta la nave con i vassoi per cercare un tavolo per mangiare E a mio avviso viene gestito anche in modo molto più comodo Sempre questa compagnia nella zona buffet passava anche un messaggio Invitando la gente che aveva terminato il suo pranzo di spostarsi in altre aree della nave In modo tale da lasciare liberi i tavoli per altre persone che dovevano mangiare Trovo che non sia assolutamente irrispettoso Perché spesso c'è gente che magari sosta al buffet più del dovuto In realtà quella è una zona per mangiare quindi una volta che si è terminato il proprio pasto Sarebbe opportuno uscire dalla zona buffet e occupare altre zone comuni della nave In modo tale da lasciare spazio ad altri che vogliono mangiare A mio avviso una gestione un po' più attenta da parte di alcune compagnie Potrebbe andare a risolvere almeno in parte questo problema Il terzo punto che però non mi trovo d'accordo sono gli orari per tutto Infatti quando saliamo a bordo di una nave da crociera avremo un orario per la colazione Un orario per il pranzo Un orario per la cena Un orario per gli spettacoli a teatro Un orario per le escursioni In pratica la nostra giornata sarà scandita da orari Che potremo trovare sul giornale di bordo di cui ho già parlato qua in questo video E quindi per alcuni tutti questi orari Tutta questa scansione dei tempi della propria vacanza è un po' oppressiva Personalmente non trovo questo gran problema Perché noi possiamo comunque vivere la nostra vacanza in piena libertà Ovviamente se vogliamo mangiare al ristorante avremo un orario così come per la colazione Ma se ci svegliamo un po' più tardi troveremo comunque qualcosa da mangiare a bordo della nave O volendo siccome in nave non si muore di fame Come spesso abbiamo fatto noi saltiamo la colazione Andiamo direttamente al pranzo magari un po' prima Mentre per quanto riguarda lo spettacolo a teatro e poi successivamente la cena Ovviamente anche qui abbiamo degli orari ma in base a come volete vivere voi la crociera Non ci sono obblighi di fare sia lo spettacolo che la cena al ristorante Potete decidere ad esempio di fare cena al buffet Poi andare nel vostro turno dello spettacolo a teatro Potrete decidere di saltare il turno a teatro come ad esempio facevamo noi quando prendevamo il secondo turno a cena Ci godevamo la nave semi vuota andando sui ponti più alti per un aperitivo E poi andavamo direttamente al ristorante saltando lo spettacolo a teatro O se c'era uno spettacolo a teatro che ci interessava particolarmente Magari facevamo cena al buffet e poi teatro O teatro e poi ristorante andando quindi ad allungare i tempi della serata Su una nave normale che ci siano degli orari altrimenti sarebbe una gran confusione Perché organizzare così tante persone per far funzionare tutto così alla perfezione Deve per forza avere degli orari scanditi altrimenti sarebbe veramente un delirio Il quarto punto che invece mi vede completamente d'accordo E che sulle navi da crociera è difficilissimo trovare un asdraio Effettivamente su alcune navi da crociera magari quelle un po' più piccole e non i giganti del mare Quando si fanno le giornate di navigazione e quindi tutti sono tutto il giorno sulla nave Trovare un asdraio è veramente impossibile Anche qui basterebbe solo un po' di educazione in più da parte degli ospiti della nave Che se utilizzano l'asdraio possono appunto lasciare il proprio asciugamano sopra Ma se magari vanno a pranzo e poi ritornano dopo due o tre ore Basterebbe togliere l'asciugamano Lasciare lo spazio per un'altra persona che potrebbe utilizzarlo in quelle ore E poi andare a ricercare un altro posto Purtroppo siamo tutti molto comodi E quindi è più comodo posizionare l'asciugamano alle 7 di mattina E rimuoverlo magari alle 7 di sera quando va bene Questa è un'altra cosa che la compagnia dovrebbe risolvere con alcune soluzioni Però alcune compagnie hanno già riservato delle zone a pagamento a parte O delle zone riservate ai livelli superiori dei club Che permettono di andarsi a riservare un lettino a pagamento E quindi avere una soluzione ovviamente con un extra Ma sempre a propria disposizione quando vogliamo prenderci il sole sui ponti della nave Questa potrebbe essere una soluzione ma ovviamente è sempre un costo aggiuntivo E proprio sui costi aggiuntivi è il prossimo punto Infatti ogni cosa è extra Anche questo mi trova in parte d'accordo Perché ovviamente una nave da crociera non è un centro di beneficenza Noi saliamo pagando un prezzo E ovviamente il loro business è quello di farci spendere altri soldi a bordo della nave Però non ci sono degli obblighi Se non siete sicuri che quella cosa sia compresa Vi consiglio sempre di chiedere se è compresa all'interno del prezzo pagato o se è un extra Ovviamente vi risponderanno senza alcun problema Quindi non abbiate paura di fregature o altro L'importante a mio avviso è salire a bordo delle navi informati In modo tale da sapere già indicativamente quello che è compreso all'interno del pacchetto che abbiamo acquistato E quello che invece sarà extra che quindi decideremo noi se acquistare o meno E sempre in termini di prezzi e prezzo finale le escursioni sono troppo care Questo è un altro punto che spesso mi viene segnalato E' una lamentela che spesso viene fatta E' vero le escursioni sono assolutamente care Spesso tante escursioni in fai da te le facciamo con meno della metà dei soldi che ci costerebbe l'escursione Però l'escursione ha due grossi vantaggi Il primo è che non dovete preoccuparvi del tempo Infatti con un'escursione non avete assolutamente paura di perdere la nave Perché essendo organizzata la compagnia anche se ci fossero dei ritardi degli incidenti Che vanno a ritardare il ritorno in nave la nave vi aspetterà sempre Mentre invece il secondo punto è che non dovrete preoccuparvi di nulla Se volete fare un'escursione in fai da te a meno che non conosciate già la città Dovete comunque informarvi sui mezzi di trasporto Sulle zone da andare a visitare Sul tempo che avete a disposizione per capire quale tragitto fare Tutte cose che magari per chi non ha voglia di sbattersi Per chi non ha voglia di effettuare queste ricerche Potrebbero essere una cosa pesante da fare prima di partire per il viaggio L'escursione ovviamente pagandola ci dà quindi la possibilità di viaggiare in completo relax Senza pensare a nulla e senza dover organizzare nulla Ma facendosi trasportare direttamente dalla compagnia Per andare a visitare dei luoghi O per andare a effettuare un'escursione anche solo in spiaggia senza alcun problema Un tema sempre legato alle escursioni è che non si ha tempo di visitare nulla Questo in parte vi do ragione perché una nave da crociera solitamente si ferma in porto per un giorno E quindi avremo un singolo giorno per visitare una città o un paese Quando ci fermiamo ad esempio a Barcellona Ovviamente in un giorno non avremo tempo di visitare tutta la città Ma una crociera potrebbe essere anche un modo interessante per vedere magari un scorcio della città Capire se ci piace e poi organizzare un viaggio a sé stante proprio in quella città O volendo se fate tante crociere come è capitato a noi potreste capitare più volte nella stessa città Ad esempio noi Barcellona nei vari anni di crociere l'abbiamo visitata per quattro volte E per quattro volte siamo riusciti a vedere sempre cose nuove che non abbiamo visto nelle giornate precedenti Quindi è normale che in un giorno non si riesca a visitare tutta una città Ma potrebbe essere un'ottima soluzione per farsi un'idea generale e capire se quel posto vi piace o meno Veniamo invece a un altro aspetto che riguarda le cabine interne Spesso ci dite che sono piccole e buie La cabina interna come diciamo sempre è la soluzione più economica per salire a bordo di una nave Se non soffrite di claustrofobia o non vi piacciono gli spazi completamente bui A nostro avviso la cabina interna è una soluzione ottima per viaggiare con una soluzione più economica E comunque godersi la nave all'esterno Noi abbiamo fatto diverse crociere sia in cabine interne che in cabine con finestra e balcone La differenza ovviamente c'è perché una cabina con balcone vi dà un respiro maggiore Ma ne abbiamo parlato nei video dedicati Ma la cabina interna vi permette di salire a bordo della nave risparmiando E quindi qualche caratteristica, qualche cosa bisogna sacrificare per pagare un po' meno E sempre in tema di oppressione della nave Molti si sentono chiusi a bordo di una nave all'interno di uno spazio limitato Per questo motivo il consiglio che vi do se avete questa paura e non siete mai saliti a bordo di una nave Scegliete la nave più grande della compagnia che avete scelto In quel modo avrete veramente un paese galleggiante A volte non vi sembrerà nemmeno di essere in mare Personalmente non ho mai sofferto di mal di mare sulle navi da crociera Anche avendo trovato il mare molto mosso Ma posso capire che chi magari è più soggetto a questa cosa possa essere un po' titubante nel salire a bordo Un altro dei punti che spesso non piace sulla nave è l'incubo dell'acqua Tantissime sono le domande che ci arrivano per sapere quanto costa l'acqua a bordo Se è possibile portarsi delle casse d'acqua a bordo Se è possibile andare a ricaricare le borracce a bordo Ovviamente come dicevamo prima la nave da crociera una volta che saliamo a bordo È ovviamente orientata a farci spendere dei soldi Le bottiglie d'acqua hanno un costo che può variare appunto tra la bottiglia piccola e la bottiglia grande Ma su una crociera di 7 giorni a meno che non beviate 10 litri al giorno Non vanno ad influire così tanto sul prezzo finale Sicuramente nel momento in cui siete a terra potete acquistare delle bottiglie d'acqua Potete anche portare a bordo 1 o 2 bottiglie d'acqua e tendenzialmente non ve le bloccheranno mai Ma appunto non è quello il risparmio che potete fare sul prezzo finale della vostra crociera Quindi non mi preoccuperei troppo sul prezzo dell'acqua A meno che appunto non bevete 10 litri al giorno allora il prezzo magari incomincierebbe a farsi sentire Molti dicono che durante i giorni di navigazione ci si annoia I giorni di navigazione sono dei giorni in cui non si scende dalla nave Si è per tutto il giorno in navigazione in mare aperto E sono dei giorni solitamente di trasferimento A noi personalmente i giorni di navigazione piacciono molto perché permettono di rilassarsi sui ponti alti della nave Se vi piacciono potete magari partecipare alle attività organizzate dal gruppo di animazione O volendo partecipare ai diversi seminari che sono presenti a bordo della nave In questo caso ovviamente se non vi piacciono i giorni di navigazione e li avete già sperimentati Non vi consiglio di fare una transoceanica perché in quel caso i giorni di navigazione continui potrebbero essere anche 4 o 5 E quindi se vi annoiate già con uno con 4 o 5 potrebbe diventare ancora più problematica Ma anche in questo caso scegliere una nave immensa potrebbe essere una soluzione Perché vi permette di avere tantissime attività e godervi al meglio questa nave Cosa che invece magari non riuscite a fare con tanti giorni di scali e quindi discese dalla nave E solamente un giorno di navigazione a bordo E un punto in parte collegato a queste cose è la musica troppo alta Se vi posizionate con l'esdraio sui ponti della nave vicino ai ponti centrali Sentirete spesso durante il giorno la musica abbastanza alta del gruppo di animazione o appunto dei DJ della nave In questo caso il consiglio è andare a ricercare dei ponti un po' più laterali a poppa o a prua In modo tale da trovare delle zone più riservate e potervi godere la tranquillità della nave Per fortuna le navi sono ben strutturate quindi hanno delle zone più silenziosi Delle zone con più vento e con meno vento Delle zone con le piscine e delle zone senza Dove è possibile trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze di crociera Fatemi sapere con un commento qua sotto quali tra questi punti condividete e con quali invece non siete d'accordo Se avete altre cose che non vi piacciono della crociera fatemelo sapere con un commento qua sotto Sarà un piacere scambiarci delle idee e delle opinioni Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia fatto magari un po' sorridere Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere tutti i video che portiamo ogni settimana dal mondo delle crociere Per questo video sulle cose che non mi sono piaciute in crociera è tutto Noi ci vediamo alla prossima navigazione Ciao da Enrico Grazie